Gentili telespettatori, benvenuti con il nostro telegiornale del Veneto orientale. Andiamo subito a Sandona di Piave, dove ha visitato il reparto di pediatria il famoso medico Pech Adams, colui che ha inventato quella che è nota come la clown terapia. È inutile dire che ha creato molta felicità, soprattutto tra i piccoli pazienti. Lunedì pomeriggio, la pediatria di Sandona di Piave è stata protagonista di un egento che resterà nella storia di questa unità operativa, la visita di Pech Adams, il medico americano che ha inventato la terapia del sorriso nota al mondo come clown terapia. Il dottor Hunter Doherty, 70 anni, nato a Washington, è approdato a Sandona di Piave nell'ambito di un evento Mediolanum, ma qualche ora prima di presentarsi al pubblico ha voluto far visita ai bambini ricoverati in pediatria, dove si è intrattenuto per circa un'ora. In ospeare ha creato non poco scompiglio per la visita improvvisa che ha fatto divertire i bambini, ma anche il personale medico ed infermieristico. Con l'aiuto di un interprete, il medico è attivista, ha ispirato anche un lungometraggio interpretato da Robin Williams, ha raccontato storie di fantasia utilizzando delle marionette, ha incontrato il piccolo Filippo, ha vestito da clown il personale del reparto ed il primario per Giuseppe Flora, che ha partecipato con ironia alle varie attività, tra cui un divertente coro di gruppo al termine della visita. E a Oderzo, il sindaco prende la decisione di limitare a determinati orari prestabiliti l'uso delle slot machine. Giro di vite del comune contro il gioco d'azzardo. Un'ordinanza ha introdotto limiti di orario per sale gioche e videopoker collocati in bar ed esercizi commerciali. Chi sgara rischia molte fino a 500 euro. Una decisione che sta creando parecchio malumore tra i gestori dei bar e locali. Il sindaco Paolo Speranzonna, nell'ordinanza, ha previsto gli orari entro cui l'esercizio del gioco d'azzardo è ammesso a motta. Per le sale da gioco, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Tutti gli altri apparecchi posti in bar, ristoranti, alberghi, tabaccherie, esercizi commerciali e ricevitorie lotto, potranno essere utilizzati tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. I medesimi apparecchi fuori da questi orari dovranno essere spenti. Dal comune si segnala che, in base ai dati forniti dall'USL numero 9, la provincia si colloca al 19esimo posto della lista delle province italiane di fruizione del gioco d'azzardo con una raccolta in denaro parle a 894 euro pro capite. Dalla montare complessivo è escluso il gioco online. Inoltre, rispetto alla spesa a pro capite per il gioco d'azzardo, la marca vanta una cifra di 1.086 euro rispetto a poco più dei 1.400 euro della media nazionale, sempre escludendo i giochi online. In Veneto il 36.3% degli studenti tra 15 e 19 anni ha giocato d'azzardo almeno una volta nell'ultimo anno. Ma l'ordinanza fa parecchio discutere in diversi bar del centro. Se davvero venisse applicata, hanno commentato ieri alcuni esercenti del centro, diversi bar dovrebbero seriamente decidere se continuare l'attività. C'è chi come locale spende 10.000 euro all'anno di manutenzione, controlli e tasse. Per molti un limite del genere sarebbe economicamente insostenibile. Si vuole porre un freno alla ludopatia e allora perché non si può continuare a comprare gratta e vinci e con le scommesse online come la mettiamo. Al vaglio di molti baristi le iniziative da prendere contro l'ordinanza. Parlando ora della nostra regione, l'ultima seduta del Consiglio regionale ha creato molti commenti positivi. Certamente è un'ottima legge che va a sanare un'inefficienza da parte dello Stato che aveva tagliato funzioni, competenze e denari alle nostre province. Noi in questa maniera abbiamo garantito una funzionalità anche per i prossimi anni, abbiamo garantito al personale di rimanere in capo alle province ma soprattutto di avere uno stipendio sicuro alla fine del mese. Purtroppo lo Stato per l'anno prossimo ha previsto 134 milioni di tagli all'ente provincia per le funzioni fondamentali quindi sicuramente l'impegno che si è preso la Regione del Veneto è un impegno importante ma che va nella direzione di tutelare i nostri territori e soprattutto i servizi dei nostri cittadini. Sì, non avevamo alternative, avevamo un sacrificio da parte del Consiglio regionale però sappiamo quanto importanti sono le nostre province soprattutto a seguito di questa riforma del Rio che ha demolito un'istituzione prevista dalla Costituzione senza darne ovviamente le soluzioni, cioè senza prevedere delle forme alternative di finanziamento. Quindi è un intervento importante e anche per questa volta la Regione del Veneto ha dovuto coprire un buco dello Stato. Un commento positivo rispetto a una legge e un impianto del Rio molto molto negativo ma soprattutto che ha dei risvolti anche pericolosi perché mette delle incertezze soprattutto per quanto riguarda le risorse dipendenti delle province. Però abbiamo voluto mettere mano con un segno tangibile sia per il 2015 che per il pruriennale con oltre 40 milioni a disposizione, insomma non è una cifra da poco specialmente di questi tempi per cui abbiamo rassicurato le risorse e il personale delle province, le funzioni non fondamentali, quindi abbiamo precostituito una base per degli accordi e delle convenzioni che dovranno esserci per forza di cose da qui ai prossimi mesi con le province e con la città metropolitana per capire e guardare il bicchiere mezzo pieno, ossia trovare quelle sinergie che vadano a colmare quelle sacche magari di dispersione e di cattivo funzionamento delle funzioni quindi con una razionalizzazione ulteriore della spesa che deve comportare risorse e economie da erogare poi in servizi per i veneti. Si attendevano una notizia importante soprattutto che è rassicurante nei confronti dei dipendenti possiamo dire che col voto forte di questa maggioranza abbiamo rassicurato da qui ai prossimi anni insomma le forze lavoro e le province e queste funzioni messe un po' a repentaglio e a rischio da una normativa nazionale che non li rassicura per quanto riguarda almeno le funzioni fondamentali e su questo abbiamo avuto purtroppo il conforto anche delle nostre dichiarazioni dal presidente variati insomma molto preoccupate le province per quelle che sono quelle funzioni. La regione ha fatto la sua parte. Non siamo soddisfatti perché è una legge senza coraggio che mantiene tutto come sta certo salva le professionalità salva il personale ma non guarda avanti non raccoglie la sfida di semplificare tutta questa giungla di enti che ci sono dove i sindaci si ritrovano al mattino per parlare di sanità, al pomeriggio per parlare di rifiuti e alla sera per parlare di trasporti. Noi avevamo chiesto che tutto fosse ricondotto a questa nuova provincia dove siedono i sindaci per questo diciamo che abbiamo perso un'occasione. Il Veneto ha perso un'occasione e cercheremo di raccogliarla la prossima volta. Una visione più volta al futuro che avesse voglia di cambiare anche in Veneto e non mantenere tutto come sta e come si vuole che rimanga per l'eternità. Questo purtroppo è il grande difetto del nostro governatore. Non cambierebbe mai nulla e anche questa volta non ha voluto fare un passo più in là. Sì, non raccoglie la sfida di cogliere questa occasione per dire cosa fa la provincia e cosa fa questa assemblea di comuni e dicendo anche tutte queste assemblee di sindaci fatte per i rifiuti, per i trasporti, per il gas. Le eliminiamo, ne manteniamo solo una e là dentro i sindaci si confrontano su tutte queste materie. Non ha avuto questo coraggio. No, la legge è tutta sommata un qualcosa di doveroso. Il giudizio è assai negativo sull'operato del governo perché è stata una riforma assolutamente scellerata, vile nei confronti dei lavoratori della provincia che in questi anni hanno visto maltrattata la loro professionalità e noi abbiamo cercato di risolvere tutti insieme, bipartisan, questo vulnus creato dal governo Renzi che per un titolo di giornale non avendo i numeri ha creato forse la più brutta riforma degli ultimi anni. Io ho visto che il Movimento 5 Stelle a priori vota sempre contro, qui invece abbiamo tutti chi ha votato a favore ha avuto davanti agli occhi i diritti dei lavoratori e soprattutto abbiamo avuto il senso di responsabilità di risolvere una bruttissima riforma che è sotto gli occhi di tutti. Sì, noi abbiamo salvato i posti di lavoro e abbiamo trovato le risorse. Di tutto questo Renzi non si era minimamente preoccupato. È una legge che mette una top rispetto a una legge nazionale vergognosa che ha creato un sacco di problemi a questi enti territoriali e soprattutto ha messo in grande difficoltà i dipendenti pubblici delle province italiane. Rispetto a questa, dimostrando una grande responsabilità istituzionale, la Regione del Veneto ha deciso di stanziare i fondi necessari per garantire la continuità occupazionale a questi dipendenti e a mantenere quelle funzioni fondamentali e non fondamentali che spettano le province. Questo rappresenta sicuramente un segnale di vicinanza al territorio e soprattutto un modo concreto che la Regione del Veneto adotta per essere più vicine alle esigenze dei cittadini. Ci siamo riusciti, diciamo proprio al photo finish, nel senso che da qui a qualche giorno sarebbero scaduti i termini per presentare appunto questa proposta di legge. Ed è per questo che noi ci siamo in gran parte astenuti in Aula. Abbiamo votato a favore solamente quella parte dove si andava a toccare temi relativi appunto all'impiego dei dipendenti provinciali, alla salvaguardia dei dipendenti, ma dove si è trattato di distribuire le competenze secondo noi è stata fatta in maniera troppo frettolosa anche dalla Regione del Veneto. Capiamo che il male inizia a Roma con una reforma del Rio altrettanto frettolosa e veramente fatta male, ma qua in Regione del Veneto avremmo potuto discutere ampiamente di più in commissione e ad arrivare a un testo più condiviso. Del territorio provinciale? Beh, tutte quelle cose che sono state approvate oggi in maniera appunto come dicevo molto frettolosa saranno temi che saranno comunque riaffrontati nelle relative commissioni e là andremo ad approfondire quello che non è stato approfondito ad oggi. Zorzatto propone che ci sia un regolamento unico per tutti i comuni per andare proprio a semplificare la vita alle amministrazioni. Ieri abbiamo fatto il piano casa, semplificazione. Ho presentato una legge che prevede una legge quadro sull'urbanistica, cioè un'unica legge per tutte le normative di urbanistica e oggi il regolamento unico, 580 comuni, 580 modi di presentare progetti, di calcolare i metri cubi, i metri quadri, le distanze, è una babele. Impossibile per i cittadini, impossibile per le imprese e per i professionisti. Questa norma prevede un unico modo per affrontare il problema del progetto, un unico modo per calcolare la cubatura, un metodo semplice. Quindi più semplicità, meno burocrazia, più facilitazioni per i nostri cittadini. Sarà semplice per le amministrazioni, semplice per i cittadini, semplice per le imprese, cioè meno costi, meno carte, meno burocrazia. E d'altra parte, se da un lato vogliamo consumare meno suolo e avere più semplicità, tu devi fare in modo che in ogni comune del Veneto, ogni amministrazione abbia con il suo cittadino un unico modo di comportarsi. Quindi lo stesso volume, la stessa altezza, la stessa distanza, metodi semplici per favorire l'economia veneta. Beh, se vogliamo semplicità, se vogliamo l'interesse dei cittadini, delle imprese e dei professionisti, responsabilità al professionista, ma anche tempi certi. Faccio la domanda di legibilità, ho le carte a posto, 20 giorni me la devi dare, altrimenti ho l'agibilità. Come sempre la mia filosofia, come la legge quadro sull'urbanistica cancellava 20 leggi, cancellava 80 richiami in un quadro unico, questa legge sul regolamento unico regionale per le edilizie e l'urbanistica, cancella tutto ciò che non serve, quindi tante leggi verranno cancellate, tanti cavilli verranno cancellati, un unico prospetto, un unico modo, tanta semplicità. Nei giorni scorsi è venuto a trovarci Graziano Padovese, ecco noi lo abbiamo intervistato in studio e ci ha parlato di mobilità e viabilità di Portogruaro. Mobilità e viabilità del centro storico di Portogruaro, ne parliamo con Graziano Padovese, promotore della lista civica Città dell'Emene. Bel tema che si sta affrontando in questi giorni a Portogruaro è che dopo un decennio di chiusura del centro storico o comunque parzialmente della chiusura, ora si sta aprendo tutto, è un tentativo per rivitalizzare il centro storico, per richiamare persone a visitare il nostro centro storico. L'unico problema secondo me è di regolamentare perché ormai l'azienda quando arriva a Portogruaro non si riconosce più, in questi ultimi anni più volte è stata cambiata il modo di entrare e di uscire dal centro storico di Portogruaro. Di per sé io credo che sia una cosa utile l'apertura del centro storico, sperando che questo possa portare, come ripeto, nuovi visitatori in quel di Portogruaro, soprattutto per le attività commerciali, secondo me è penalizzata da tanti ultimi fattori, non ultimo la crisi economica. Io mi auguro, anzi sono convinto che la viabilità così come è fatta a Pert e la mobilità del centro storico in maniera rivista come è stata rivista, possa essere, quanto minimo, un tentativo per rivitalizzare. Secondo me le premesse ci sono, speriamo bene, attività purtroppo commerciali stanno chiudendo, non credo che questo possa portare un ulteriore incentivo a rientrare diciamo così di nuove iniziative commerciali, è l'auspicio ovviamente di tutti quanti noi. Speriamo che questa iniziativa dell'apertura del centro storico ci sia di buon auspicio per qualche attrattiva. Certo perché Portogruaro è anche meta di passaggio soprattutto per molti turisti che nel periodo estivo si trovano a Lignano o a Bibione o a Caorle che insomma vogliono visitare Portogruaro nei giorni in cui non c'è la possibilità di andare al mare. Speriamo insomma che la viabilità trovi un assetto definitivo, ringrazio Graziano Padovese e ripasso la linea. È il momento ora del collegamento con la redazione sportiva, passo la linea all'esperto Andrea Ruzza. Grazie Rachele, i campionati di calcio scendono regolarmente in campo anche nella domenica della festa di ogni Santi. Per il Portogruaro del nuovo corso a firma Gallina Marzola il calendario riserva subito uno scontro diretto di grande importanza con l'Union Quinto. Impegno casalingostico anche per la Fossaltese che ospita il Conegliano. In prima categoria c'è grande attesa per il derby tra Lugugnana e Iulia Sagittaria e per la sfida al vertice in rivale adriatico tra Caorle e la capolista gorghense. La salute invece va in trasferta a Paese. In seconda categoria la giornata offre invece un test a coda tra Sanstino e Bibione. Il Fossaltapiave ospita il Gruaro mentre il Paramaggiore vede sul proprio campo scendere l'Altino. Scontro interessante in zona playoff anche a Cesarolo dove arriva la Vigor. È il weekend cestistico del Veneto orientale, vede domani alle ore 17.30 in Serie D la Paracanestro Portoguaro ospitiare al Palalovisa il tricesimo. In Serie C Gold la capolista Smekaule fa visita al Bassano. Sentiamo coach Ferraboschi. A Bassano sarà una partita sicuramente difficile dove dovremo evitare di cadere nell'errore dopo una prestazione come questa di credere che tutto sia facile perché fortunatamente sotto questo punto di vista Montebelluna deve servirci come esempio per non ripetere l'errore di presunzione o di mancanza di concentrazione anche dall'inizio dell'approccio. Il nostro fotoreporter Vinicio Scortegagna ci propone quelli che sono gli scatti dal territorio. Gentili telespettatori vi ringrazio per averci seguito anche in questa edizione del telegiornale del Veneto orientale. Ricordo che il telegiornale va in onda alle 19.40 alle 23.40 e alle 1.30 e vi auguro un buon proseguimento di serata.